è fondamentale l'incontro di tutte le culture e la cultura gigana la cultura della loro musica chi la conosce allora impariamo a conoscere impariamo a ascoltare impariamo a cantare con loro impariamo a cantare a ballare gli hanno tolto tutto il diritto al lavoro è fondamentale per la dignità umana insomma è un discorso ron che porta a uno spirito proprio di libertà come mai noi dobbiamo subire una quotidiana discriminazione la repubblica riduce gli ostacoli perché ogni persona il cittadino possa emancipare se invece di ridurre gli ostacoli li aumentiamo e addirittura com'è possibile la loro emancipazione quindi dare voce ai ron sarebbe un certo momento riuscire a dare le voci proprio a tutti riconoscere la dignità della persona umana si deve andare sempre meglio verso una convivenza calda e umana faticosa ma è la conquista di un gioco grazie a tutti